Guadagnavano da 10 a 70 mila euro al giorno con picchi durante le festività. Una vera e propria organizzazione criminale che gestiva lo spaccio di cocaina nella periferia di Siracusa, nella zona tonnara, da cui ha preso il nome l'operazione che ha portato all'arresto di 16 persone. Il centro di vendita della droga era Siracusa, ma i canali di approvvigionamento avevano base a Catania e Messina. Una metodologia nuova di spaccio con un sistema non piramidale come tipico di Cosa Nostra, ma molto più simile a quello campano, con piazze autonome, i cui proventi sono chiaramente molto più alti, non essendo costretti a pagare nessun clan di riferimento. Tutto era studiato nei minimi dettagli, con figure ben precise. C'erano i fornitori, i corrieri, le vedette, gli addetti alla vendita al dettaglio e operavano anche secondo turni di lavoro stabiliti. C'era anche chi si occupava di pubblicizzare il business. Durante le trasferte della squadra di calcio di Siracusa, uno degli esponenti indossava la maglia del club sulla quale erano stampati il nome del distributore, il prezzo di ogni dose e l'indirizzo dove andare ad acquistarla. Le indagini svolte dai carabinieri di Siracusa e coordinate dalla procura distrettuale di Catania sono iniziate nel 2016 e hanno portato all'arresto di 20 persone grazie all'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali rese difficili dai limiti logistici della zona. A complicare ulteriormente il lavoro degli inquirenti il posizionamento di ostacoli come bidoni e tronchi d'albero lungo la via principale di accesso alla piazza per impedire proprio eventuali blitz delle forze dell'ordine. Decisive per la buona riuscita dell'operazione anche le informazioni fornite dall'ex numero uno della piazza Luigi Cavarra, arrestato e divenuto collaboratore di giustizia. La piazza era una sorta di roccaforte, di fortino presidiato da vedette. Questo rendeva molto difficile agli investigatori riuscire a penetrarlo e anche a scegliere quali dovessero essere le modalità più giuste. Il collaboratore di giustizia Cavarra, ex comandante di questa piazza, che non ha fatto altro che rafforzare dei riscontri che già avevamo acquisito nel corso delle indagini che abbiamo condotto. Tutti gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La procura aveva chiesto l'aggravante dello stampo mafioso ma il giudice non ha accolto la richiesta.